Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. La sua, quella che apprendo oggi, molto simile a quella di Santoro, di Salvini. Meno male che è seduto. Io sono seduto da un lato e lei mi deve far vedere se è acqua o se è la grappa quella. Lo dica la mattina. Questo è interessante perché dire che oggi, può essere che lei abbia ragione, però l'Europa non ha messo in campo anche nei toni un'azione diplomatica. Borrell ha preso una posizione che invece anche negli Stati Uniti è stata molto lodata, molto netta. Quindi sta sbagliando Borrell. Al netto del paragone con Salvini e Santoro, su cui chiedo poi la prova varia del bicchiere, di cosa c'è dentro il bicchiere, io dal 24 febbraio, a differenza di tanti altri, dal giorno quindi dell'invasione, a differenza di tanti altri, ho sempre detto sì alle armi in Ucraina, sì alle sanzioni. Io mi sono dimesso da un consiglio di amministrazione. Ho sempre detto che bisogna essere non neutrali, quelli che dicono noi siamo pacifisti. Ho attaccato Lampi, che aveva fatto una dichiarazione allucinante, quindi la mia posizione è netta. Però siccome ho fatto politica a livelli di governo, so come funzionano queste cose. Tu non puoi pensare che la pace arrivi da sé. Far finire una guerra è la cosa più complessa che c'è. L'unico modo per farla finire bene è non iniziarla, perché quando parti è un casino. E allora a quel punto ci vuole quello che tiene una posizione giusta, rigorosa, seria sulle sanzioni. Ma dall'altro lato ci vuole quello che dialoga. Faccio un esempio ora, tanto la mattina presto e penso che l'Unione Europea ha pensato di fare soltanto, e anche alcune all'inizio, anche la diplomazia italiana, quando Di Maio va e dice Putin è un mostro, sbaglia, perché il diplomatico non fa questo. Vi ricordate la crisi dei missili del 1962? Non c'eravamo, nessuno di noi era nato. Ma la crisi dei missili del 1962 è stato il momento nella storia dell'umanità in cui siamo andati più vicini a una crisi nucleare, a Cuba. Nell'amministrazione Kennedy c'erano due partiti. Quello che voleva la guerra nucleare, per colpa dei russi, la colpa dei russi era di Khrushchev, e quello che voleva dialogare. Nel giorno decisivo arrivarono due telex agli americani, dai russi, dai sovietici. Uno che diceva non leveremo mai i missili, e uno che diceva siamo pronti a negoziare. Bob Kennedy, che era allora ministro e fratello del presidente, nascose quello in cui si diceva non toglieremo mai i missili, perché la diplomazia deve dargli una chance. Allora, questo è l'atteggiamento. A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti. Chi? Giuseppe Conte. È l'uomo che ha dato più armi di tutti a tutti, perché quando lui era premier le armi hanno visto crescere profondamente il livello, e oggi fa il pacifista per i sondaggi. Veniamo alla giustizia. Quelli che sono i sondaggi mi fanno venire l'ordicaria. A proposito di sondaggi, c'è un sondaggio shock sul giornale. Grazie.